buongiorno bentrovati con un nuovo video è un po che non ci aggiorniamo che non ci sentiamo e ho piacere di presentarvi un nuovo acquisto arrivato ieri forse l'ultimo l'unico mazzo di sibille che mancava la mia collezione ed è la magica sibilla di scapini un mazzo bellissimo stupendo devo dire che non mi ha mai attirata particolarmente invece poi vedendole insomma dal vivo sono molto 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 più belle che sul sulle varie foto che si trovano nei siti di vendita sono molto più belle è una variante della vera sibilla diciamo così non è proprio identica ci sono delle differenze adesso vado a mostrarvi lama per lama come dicevo sono di scapini che un illustratore bravissimo sono dei disegni bellissimi stupendi e vediamo un pochetto se riesco a farvela vedere meglio con questa luce oppure se meglio così ecco forse meglio così più naturale e è un buon materiale come carte trovo si mischino molto bene nonostante sono nuove penso che dureranno molto perché ripeto è un buon materiale liscio non scivolano troppo abbastanza grandi quindi piacevoli a mio avviso da maneggiare vi faccio vedere la differenza con la sibille 800 di scapini che uso io per i miei consulti e con la classica vera sibilla che questa che usiamo che uso sia nei miei consulti ma che usiamo anche nel corso di sibille allora c'è qualche differenza rispetto ai significati classici devo dire adesso ve lo mostro intanto che dire ancora qui ci sono 54 lame perché perché due carte sono lui e lei sono il consultante adesso ve lo mostro allora ve le mostro un po random con relative differenze rispetto alla vera sibilla allora lei questa è la consultante o la donna di cui si chiede lettera questa carta ci ha come didascalia gratificazione per cui oltre a una lettera vediamo il sigillo potrebbe rappresentare una gratifica una promozione un contratto eccetera è una carta positiva la fortuna parla di determinazione guardate anche questa guardatele bene perché sono molto belle omaggi preziosi qui lotto di quadri parla di consigli ostacoli che un po poi il significato della vera sibilla io spesso l'omaggio di preziosi lo ritrovo con carte negative dove mi rappresenta più che altro ostacoli raramente consigli però queste sono carte che avremo piacere di di testare no per vedere poi come parlano rispetto al mazzo della vera sibilla o della sibilla ottocento il nemico spia qui c'è un uomo che sta spiando nascosto coperto pensiero ispirazione genialità seduto riflette attento allegria questa è già ecco la una differenza con la vera sibilla l'allegria diversamente dall'allegrezza al cuore che ci parla di normalmente vediamo due uomini una donna o due o due donne un uomo ci parla di una situazione più di flirt una situazione passeggera in questo mazzo la didascalia parla di fidanzamento e infatti ci sono due persone che danzano c'è proprio la coppia andremo a vedere poi nelle letture no come si si discosta come significato all'interno delle singole stese perché noi sappiamo che poi il vero significato della carta lo ritroviamo guardando le stese no che andiamo a fare seguendo riscontri eccetera il vedovo ci parla di rimpianti sta guardando la tomba guarda al passato quindi direi che non si discosta dai dal significato diciamo delle sibi di qualsiasi mazzo di sibille relativamente al vedovo il dottore ci parla di indulgenza io vi sto leggendo le didascaliere che riportano queste carte leggerezza qui ci parla di imprudenza una situazione leggera imprudenza verrà compiuto qualcosa di un po imprudente fanciulla ci recita volubilità che è un uno dei significati poi classici della della vera sibilla anche io spesso quando faccio consulti a donne o ragazze mi ritrovo di fronte quando mi esce questa carta spesso a persone che in quel momento della loro vita in quella situazione che andiamo indagando sono particolarmente volubili diciamo così quindi insieme ad altri significati chiaro che poi è una carta che sicuramente rappresenterà può rappresentare anche la figlia o la ragazza giovane eccetera ma prevalentemente volubilità perché come dico sempre in ogni mazzo è molto 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 importante guardare sia la raffigurazione che leggere le didascalie ma più che altro per vedere l'intenzione dell'autore perché io so noi sappiamo che con la vera sibilla molto spesso le didascalie sono fuorvianti con mazzi che hanno didascalie diverse è sempre meglio testarle per vedere fin quanto è calzante la didascalie questa e serva sarebbe la donna di servizio pietre preziose questa è una di quelle carte che a mio avviso andrebbero testate bene perché vediamo un attimino se riesco a trovarla nella velocemente nella vera sibilla facciamo il confronto arrivo abbiate pietà di me che con la fortuna che ho qui la donna di servizio e l'ultima carta allora la vera sibilla donna di servizio pietre preziose andremo a capire usando il mazzo fino a che punto si parla di un regalo di di qualcosa di prezioso e quanto invece questa carta la possiamo ancora ricondurre al significato di donna di servizio che è molto 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 più vasto e allora dispiacere cattive notizie ecco qui la nostra dama che si tocca la fronte per le cattive notizie ricevute malinconia noi sappiamo che normalmente malinconia la didascalia classica ci recita felicità perduta qua ci parla di lite comunque un dispiacere per discussioni malinconia lite gelosia crisi tormento vediamo qui un uomo girato di spalle dispiaciuto alle sue spalle la dama e con un altro signore anche qui denaro ci parla di rinnovamento questa carta normalmente nella vera sibilla nella scapini nella scapini 800 ci mostra una cassaforte e ci parla più che altro di matrimonio vantaggioso comunque questioni anche nascoste ma è diversa come carta perché è chiusa c'è una cassaforte che in parte chiusa in parte aperta tutt'altra simbologia qui ci dice ren denaro rinnovamento quindi secondo me una carta da scoprire questa è ma assolutamente comprensibile già le prime letture in base alla domanda posta ea come esce in mezzo alle altre carte l'artista qui ci parla di crescita interiore militare non si discosta dalla classica sibilla perché ci recita forza fisica e segreto la casa parla di attaccamento no al alla casa come struttura alla famiglia attaccamento a qualcosa e non non volersi distaccare da qualcosa di proprio parla di affetti casa attaccamento vedete che lui sta tornando a casa c'è la moglie lì che lo aspetta ladro ci parla di inimicizia che è il classico poi significato del ladro è sempre quello è qualcuno è una carta che ci avverte di un pericolo qualcuno ci vuole rubare qualcosa ci sta rubando qualcosa ci ha rubato qualcosa inimicizia la riunione parla di buoni esiti in generale la riunione buoni esiti recita questa carta di solito è una carta che parla proprio di ritrovarsi dopo un periodo in cui si è stati lontani e infatti devo dire che la illustrazione rende bene l'idea la gran consolazione ci parla di abbondanza anche qui a mio avviso fa come dire fa riferimento a un ritorno no questo militare che torna probabilmente della battaglia lei felicissima succede qualcosa di grosso di bello di meraviglioso superbia sentimenti consistenti questa rende bene l'idea c'è questa dama con nasino all'insù tutta un po stizzosa superbia sentimenti inconsistenti questa sicuramente nel nei quesiti d'amore una carta che ci darà tanta soddisfazione perché ci parla proprio chiaramente di sentimenti poco importanti al di là poi della scusatemi del classico significato superbia della carta della sibille classiche amore inquietudine c'è questo cupido che lancia la sua freccia meraviglioso vediamo un po dove va a finire questa freccia la fedeltà che normalmente parla anche di successo amoroso in questo caso ci parla di audacia perché vedete che qui il cane oltre ad essere l'animale fedele diciamo per antonomasia quello che è qui questo cane si fa audace insegue insegue le sue prede le prende eccetera è molto interessante molto anche questa è una carta che ci darà soddisfazioni che vogliamo scoprire al più presto speranza la speranza è una bellissima carta oltre a parlarci della classica didascalia amori facili gite eccetera qui ci dice speranza come didascalia gita ma ha un simbolo meraviglioso che l'ancora che in tantissime sibille anche straniere sappiamo essere un un ottimo auspicio non di stabilità di riuscita di quello che desideriamo per cui una carta a mio avviso di riuscita molto positiva dovrebbe essere oltre a rappresentare la speranza a seconda poi delle carte che che ci capitano dopo del quesito opposto come al solito il viaggio è molto interessante perché in alcune sibille tipo la sibilla zigana viene presentato il viaggio sempre come un viaggio molto spesso almeno vero concreto io riscontro ad esempio con la vera sibilla con la scappini 800 un cambiamento di posizione proprio come affermato da questa carta quindi non tanto un viaggio fisico poi è chiaro che una carta così vicino alla carta della casa ci fa pensare trasloco ci sono situazioni in cui rappresenta un vero viaggio fisico seppur breve ma nella maggior parte dei casi nei miei riscontri esce sempre proprio un un cambiamento della situazione no base alla domanda posta quindi viaggio cambiamento di posizione eccoci al bambino guardate che bella qui recita bambino candore quindi andrà a rappresentarci la purezza poi chiaramente a seconda sempre della domanda posta eccetera le carte vicine sicuramente ci parlerà di qualcosa di nuovo appena iniziato ma quasi sicuramente pulito il mercante qui ci dà poche speranze perché ci parla proprio di mercante infido via olè un po la classica raffigurazione come dire classica iconografica del mercante i sospiri attesa c'è questa donna meravigliosa bellissima che attende sta arrivando qui un'imbarcazione che probabilmente porterà ciò che lei desidera probabilmente lei sospira intanto sospiri attesa e la carta dell'attesa ci segnala che si sta aspettando si è aspettato per tanto tempo qualcosa esaltazioni deliranti contrarietà e qui vediamo persone che discutono bisticciano fanno caos e diciamo i deliranti contrarietà esaltazione classici significati dei deliranti conversazione serenità qui abbiamo una coppia abbiamo due amiche abbiamo una famiglia che conversano serenamente serenità la stanza guardate che bella questa carta stupenda novella per cui notizia sta arrivando qualche notizia carte vicine ci diranno di che tipo è una carta molto bella che parla anche di insomma intimità del focolare perché vedete qui c'è il focolare molto interessante la nemica nemica intrigo guardate due gatti che soffiano questa donna che arriva nell'ombra segnala un intrigo ai nostri danni probabilmente da una donna sponsali il classico beneficio ci andrà sicuramente a rappresentare il matrimonio il legame il contratto eccetera quanto positivo lo diranno poi le carte successive ma recita beneficio in generale una carta positiva la costanza in questo mazzo è meravigliosa c'è questo bambino stupendo che è attentissimo guardate lo sguardo di questo bambino è super concentrato per raggiungere l'obiettivo costanza riuscita ci segnala che riusciamo a fare qualcosa grazie alla nostra costanza lui è attentissimo starà lavorando da molto e con impegno per tirare su questa struttura costanza riuscita la carta della morte mi piace molto perché normalmente nelle sibille raffigurata la bara qui è un po meno macabra nel senso che abbiamo sì la donna qui sdraiata la persona la persona sdraiata perché morta fine ma dalle radici proprio rinasce sta rinascendo è una carta tutto sommato poetica bella e infatti ci parla di cambiamento non parla neanche di squilibrio morte morte che nome della carta cambiamento per cui fine di qualcosa di vecchio inizio di qualcosa di nuovo molto bella la disgrazia in tutti i mazzi di sibille anche quelle stare eccetera c'è sempre il fuoco qui in questa carta a mio avviso il senso di disgrazia era per come lo danno le sibille rappresentato benissimo perché abbiamo disgrazia fuoco abbiamo questa mongolfiera no che viaggia che sta facendo un viaggio eccetera che prende fuoco va in fumo c'è qualcosa che va in fumo c'è un viaggio che va in fumo c'è un viaggio della vita in qualcosa una situazione che va in fumo molto bella mi piacciono troppo queste illustrazioni amica armonia ecco qui qui abbiamo un'amica che sta preparando un caffè per due rende molto bene l'idea della carta amica e ci recita amica armonia la prigione una carta anch'essa bellissima perché vabbè scappini ha fatto un lavoro stupendo la prigione recita classica perdita di amici e gravidanza normalmente noi sappiamo a parte che io non leggo carte sulla gravidanza non si dovrebbe fare mai ma la carta della vera sibilla che parte parla di gravidanza per spiegarla si fa riferimento appunto alla catena che leggo carcerato al alla vita come analogia con il cordone umbilicale in questo caso mi ricorda la gravidanza la posizione la posizione del carcerato mi ricorda questa finire in mente la momento no anche del parto perdita di amici gravidanza perdita da amici si comunque sempre una carta di blocco no comunque quando si è fermi così bloccati può essere perdita di amici o il blocco rispetto a una situazione rende davvero benissimo l'idea una delle carte più belle devo dire belle graficamente come significato anche no innamorato parla di passione eccolo qui su un albero con una rosa in mano attende l'amore una passione qui abbiamo il significato classico no donna maritata perfida gelosa significato storico diciamo delle sibille ma noi sappiamo benissimo che la donna maritata quando esce ci indica semplicemente la moglie della persona di cui stiamo chiedendo comunque una donna sposata quasi mai è una donna poi perfida e gelosa porella e solo la moglie l'ammalato qui scappini ha fatto un lavoro eccellente perché ci dà proprio quest'uomo così sdraiato con la pezza in testa ci dà benissimo l'idea dell'abbattimento morale perché anche qui ritorno discorso della gravidanza non si fa le carte sulla salute noi andiamo a chiedere su amore lavoro su amore lavoro una carta come l'ammalato ci segnala sempre che c'è un abbattimento morale la paura di non poter fare più nulla rispetto alla situazione è questa carta rende benissimo l'idea sacerdote giurista scienziato avversario eccolo qui il re di di spade re di picche l'avversario amante scandalo sono carte molto passionali e l'amante uomo era la passione che abbiamo l'amante donna che rappresenta lo scandalo per cui secondo me con queste carte non andrà sicuramente quasi mai a rappresentare una donna in una situazione di coppia più facile cresca la donna maritata la vecchia signora qui recita solo viaggio ma andremo a vedere poi durante le letture se in realtà poi ci riporta al significato che si riscontra maggiormente che è proprio quello di passato ma può rappresentare tranquillamente un viaggio almeno questo è nelle intenzioni dell'autore del dell'illustratore la carta di lui è stupendo tra l'altro è speculare la carta di lei volevo farveli vedere perché si si guardano eccoli qua bellissimo abbiamo quasi finito è io so già che vi siete innamorate tra un po andate a ordinarle perché sono troppo belle domestico servuntuoso qui proprio il classico nell'accezione negativa del termine ma anche questa carta secondo me è da vedere insieme alle altre non è detto che sia un servuntuoso una persona per forza così ambigua cattiva eccetera potrebbe essere anche solamente una persona indecisa o troppo sottomessa per agire in maniera chiara bisognerà guardare come parlano le carte queste carte qui questo mazzo qui la sorpresa riuscita di un'impresa qui vediamo questo albero non si aspetta e finalmente è arrivato il frutto che la bambina accoglierà evidentemente una carta che ci segnalano che la la cosa in cui speriamo arriverà arriverà maturazione raccoglieremo i frutti ecco interessante questa il messaggero ci dà cattive notizie cattive vedremo quanto cattive nel senso che secondo me è importante in questa carta guardare in che senso sono cattive guardare le carte intorno per capire se sono realmente cattive di che natura il gran signore è il solito classico significato generosità un uomo adulto che aiuta il re di cuori la falsità che normalmente raffigurata con un gatto qui abbiamo il gatto e la volpe fatti umani che ci riportano alla favola di pinocchio falsità adulazione come dire ti ti ha ti voglio adulare perché voglio perché son falso voglio tenere qualcosa da te ti prendo un po in giro così ti truffo un po falsità adulazione rende bellissimo benissimo l'idea baldoria qui ci parla di bella vita è una carta si di allegria ma di allegria probabilmente eccessiva per cui a mio avviso nonostante qui abbiamo baldori a bella vita che ci dà l'idea di una carta fortemente positiva è una carta che potrebbe parlarci anche di eccessi andremo a studiarci la questa guardarla bene il belvedere qui è un uomo in questo mazzo ed è una carta bellissima sta arrivando qualcosa del vedere visita sta arrivando qualcuno qualcosa è vicino non passano molto tempo perché lo sto aspettando bellissimo abbiamo finito io di più che vi faccio vedere il dorso guardate bello anche il dorso mi piace molto vedete bene la scatola appunto è questa non è che ho dimenticato una carta no 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 sono le carte del mazzo queste arriva con un libricino in cui non vi aspettate significati perché non ce ne sono ci sono dei metodi di stesa metodi di lettura insomma che normalmente chi mi conosce chi segue i miei corsi sa che io non uso metodi di lettura e distese particolari proposte nei vari mazzi perché è mia abitudine insegnare e leggere io stessa durante i consulti le stese sciolte perché a mio avviso sono è il metodo di lettura quello delle stese sciolte che ci aiuta maggiormente a vedere ad indagare bene qualsiasi tipo di situazione ciò non toglie che si possa provare uno di questi metodi insomma che sono comunque interessanti mi è capitato di avere ottimi riscontri anche con delle croci semplici o con croci celtiche eccetera che dire per oggi vi saluto vi mando un abbraccio spero che la recensione di questo mazzo vi sia piaciuta spero di avervelo descritto bene lo useremo sicuramente in uno dei prossimi una delle prossime interattive questo mazzo perché è strepitoso lo amo da morire e fatemi sapere se le avete se vi piacciono se le acquisterete qualsiasi cosa insomma sotto nell'infobox trovate anche link alla mia pagina facebook il link per chi fosse interessato a seguire un corso il mio corso di vera sibilla oppure il corso di facile sibilla regionale che è un corso molto divertente in cui si ci si confronta anche con altri gli altri ragazzi che seguono il corso eccetera e detto questo vi mando un abbraccio e torno tra un po con una interattiva per vedere un attimino le novità di prossima settimana ciao a tutti ciao